Posso farti una domanda, Dom? Qual è la cosa più bella della tua vita? La famiglia. Non è vero. Non si vuoi essere onesto. Sono quei dieci secondi fra la partenza e il traguardo, quando non pensi a niente. Niente famiglia, niente obblighi. Solo tu. Essere libero. Devo dirti che questa scemenza da Robin Hood, salvatore della Terra, a cui ti sei dato ultimamente, non sei tu. Perché tu sei diverso? Che senso ha vivere un quarto di miglia ogni tanto quando potresti vivere tutta la vita in quel modo? Che senso ha vivere un quarto di miglia 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 di miglia.